introduciamo il formaggio all'interno di hot mix pro e selezioniamo la velocità delle lame più la velocità sarà alta più il formaggio sarà grattugiato finemente per cominciare impostiamo la velocità a 5 otteniamo così un risultato grossolano ora aumentiamo la velocità portandola a 10 grazie alla potenza del motore ora il formaggio sarà grattugiato in modo molto fine